Domenica siamo riusciti a portare a termine l'iniziativa che avevamo già pensato anno scorso, quella di donare 10 alberi al comune di Colli al Metauro. Inizialmente erano 10 alberi, poi siamo riusciti solo a donarne 5 perché abbiamo fatto un'ulteriore donazione purtroppo per il Covid. Speriamo anche il prossimo anno di non rifarla quella del Covid, ma quella degli alberi sì. Abbiamo donato questi 5 alberi al comune di Colli al Metauro e abbiamo individuato come zona di piantumazione la scuola materna di Villanova. Ed è una cosa secondo me che bisogna ripeterle. Io come presidente lo proporrò ogni anno, abbiamo deciso col direttivo di poter riuscire, speriamo, a ridonare sempre ogni anno 5 alberi al comune. Questo perché? Perché gli alberi ci fanno vivere, abbiamo bisogno degli alberi sia per la biodiversità che per l'ambiente stesso. Donare alberi è una cosa secondo noi, secondo noi cacciatori che siamo a mio parere i veri amanti della natura, è una cosa essenziale. Il prossimo anno cercheremo altri siti dove poter piantare questi alberi, che siano parchi o che siano scuole. Il nostro obiettivo è più che altro metterli dove poi giocano i bambini, che sono il nostro futuro. Alla piantumazione eravamo una diecina di cacciatori. Senza i ragazzi dietro di me che collaborano molto bene, mi danno una bella mano, non riuscirei a fare niente. Sono orgoglioso di questo, anzi voglio fare pubblicamente i miei complimenti. Oltre a questa iniziativa cercheremo di organizzare nella prossima primavera anche una pulizia di tutto il fiume Metauro, la zona che riguarda il nostro comune che si è allargato da poco e la sponda verso sud e la sponda verso nord che secondo me ne ha bisogno.